Ecco i dizionari di un due cane italiano e gatto italiano e viceversa pubblicati dalle edizioni sonda di Casale sono giunti rispettivamente alla sesta e dodicesima edizione, un successo che testimonia del crescente amore verso il mondo degli animali con 7 milioni di cani e 9 milioni di gatti nelle case degli italiani e sono stati presentati alla FNAC di Torino, presente l'etologo Roberto Marchesini che ha curato entrambe le pubblicazioni e arricchite da bellissimi disegni. Non si tratta da sé di tradurre banalmente mia o bau e gr, bensì di intuire che avessi i loro comportamenti se i nostri amici stanno bene o male, sono arrabbiati o a disagio, hanno problemi o possono diventare pericolosi. Ci sono molte cose da imparare in questi dizionali e come esempio. È molto importante riuscire a comunicare bene col proprio cane, molto spesso le persone pensano che sia intuitivo quindi se ne so abbracciano il cane pensando che l'abbraccio sia un linguaggio universale viceversa l'abbraccio nel mondo degli uomini vuol dire ti voglio bene, nel mondo dei cani vuol dire sono più forte di te quindi se incontro un cane e lo abbraccio e lui mi morde, sono io che ho sbagliato quindi non è il cane potenzialmente pericoloso.